...estimato per la bellezza del suono. Marco ha rappresentato per tutti noi la solidarietà, l'altruismo, la disponibilità dei vari cari di impegni che ha perseguito. Come detto, come chiede, l'ho visto impegnato come imprenditore turistico del direttivo dell'Associazione dei Vagliatori, a mio fianco come candidato consigliere tribunale, dirigente della squadra locale di Calcetto, organizzatore del direttivo dell'Amminemis e sempre e soprattutto commissorio sulle labbra. Può sembrare contraddittorio, ma anche in questa situazione straziante e di grande dolore, io non riesco a non ricordare come sono reso sulle labbra a fianco di le mortissime di Cristina e Gabbia, ai familiari, ad anni e franno, colpiti da queste male tragedie, sia di conforto l'attestato di stima di tutta la cittadinanza e dei numerosissimi amici, innamorati come di cui innamorati e profondamente legati a Marco, e sia di conforto il ricordo di Marco come persona sempre positiva, che ha vissuto pienamente la sua troppo breve esistenza terrenica. Per me e per la cittadinanza posso dire che abbiamo perso irrivedibilmente una persona straordinaria nella sua semplicità e nell'alturismo, che ci lascia un chiaro messaggio ed un forte testimone di come affrontare la vita di quelle varie decisioni. Grazie Marco per il tuo insegnamento, amico per sempre nel vostro cuore e nella nostra straordinaria. Grazie.